seri e sinceri. Credo che riconfermiamo queste posizioni, ma ne aggiungiamo altri tre di essi. Noi siamo sicuri, sicuri di aver fatto bene, di aver fatto la scelta appropriata e oggi siamo più sicuri di quanto eravamo quando i sondaggi sembravano speno favorevoli e più favorevoli a seconda degli eventi. Siamo certi e sicuri che la strada è giusta per rispondere ai problemi della nostra collettività e in particolare del tema. Siamo sereni e siamo sereni perché abbiamo fatto una scelta non di potere che guarda agli interessi personali, ma abbiamo fatto un atto di responsabilità nei confronti di una realtà che è in grave crisi, che ha bisogno di riconcarare alla democrazia e alla fiducia il parere della pubblica opinione e la gente è stufa della politica che si è verificata specie dei quotidiani e quindi apriamo un percorso diverso.